Si roba in modo diverso Eheh Si roba in modo diverso Per un mozzo Perchè Si è rotta la videocamera Eheh Allora Ieri stavo bello tranquillo a fare scopo che a fare i mochi Allora che si stacca diventa nero Se voglio avere un'opera del D'oggi Dottor Tigno Tigno Ho scoperto anche dove abita Vero Si è portato a forma del cacchio Eccolo Ecco qua, abita Sì Qua abita Soprattutto Per forza così Eeeh Comunque Stasera ci vedremo al parco Ehm Hai capito? Non vuole dire Una zingara Capito? E comunque Questa sera Ehm La scena E vi farò vedere come stanno sulla monna E lei Aggiungerò un po' la videocamera E vi farò Tutti gli effetti E vi farò inserire tutti gli effetti Perchè adesso sta con questo Siamo in freddo Beh quindi Ci vediamo Dopo Aspetta va bene da lasciarmi battere tanto me ne trovo una per battere comunque io su un altro canale sono detto andatemi a seguire su quell'altro canale bebetta come sono sopra e ai ai qualcuno ha nemmeno e se non sobra perchè io mi sono sovra perchè io mi sono sovra suzzi e vince dove suzzi bene bene vediamo chi è io ho ricevuto da una lettera del signore se senza di voi e quindi non so più che faremo io stavo quindi allora comunque io stavo mangiando le penne io ne ero rimaste due proprio se mi sveglio e vedo proprio quel pacchetto ci sono le tre marmellate di riporto c'è un'altra cosa c'è un'altra cosa c'è un'altra cosa c'è un'altra cosa c'è e un'altra cosa c'è e un'altra cosa c'è e un'altra cosa c'è e l'ho fatta con i suoi e quindi l'ho mangiata una e mi sono trasformato in una specie di polpo con tutte queste gambe piene di plastica 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 con qualche strumento e qua la maglietta e io e io mamma mia aiutami che sono così con le nostre e io aiutami sono diventato un polpo di mare o mamma e poi non so nè poi avevo seduto con la chiglietta un po' e poi c'è un'altra cosa che diceva spalmati con la chiglia e non aumentare quando lavora per una pesa non spalmata ero diventato la era una coda come in inglese di però sono un cilindale sono un polpo di mare mi mutavo pure a polpo ero pure in piscina mamma mia mamma mia che imbarazzo vabbè ci vediamo in un prossimo video da un saludo e io sento te la ciao intro can